Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia Stradale di Salerno hanno concluso un'operazione a Bellizzi presso un'officina meccanica all'interno della quale venivano ricoverate e poi lavorate autovetture rubate nel comune di Salerno. L'attività ha portato al sequestro di due motori con annesso cambio e di un portellone appartenente ad un'autovettura Audi Q5 oggetto di furto, asportata insieme ad una Smart su cui risultavano essere equipaggiati i motori rinvenuti e sequestrati. L'utilizzatore dell'officina è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria per chi è ritenuto responsabile dei reati di ricettazione, recupero, raccolte e distruzione di veicoli a motore, sebbene non autorizzato. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS